benvenuti oggi siamo nel centro di alfonsine per visitare la casa degli archi questa casa indipendente ha un grande giardino che si sviluppa sul retro un vero paradiso per chi ama gli spazi aperti perfetto per i bambini e gli animali di casa nel giardino troverete ampi spazi per giocare rilassarsi ed organizzare fantastiche grigliate all'aperto ecco il giardino con ampie zone verdi un'area per ricavare l'orto potrete godere meravigliose giornate all'aperto organizzando cene con amici e familiari entriamo e siamo accolti da un ingresso che ci conduce direttamente alla sala da pranzo qui troviamo una cucina vista pratica e ben rifinita con dettagli caldi ed accoglienti il cuore della casa è il camino perfetto per le serate invernali in famiglia dalla cucina possiamo uscire direttamente nel giardino o dirigerci al salotto il salotto spazioso e ben illuminato è il luogo ideale per rilassarsi e trascorrere del tempo in compagnia al piano terra troviamo anche una camera multiuso che può essere adattata alle vostre esigenze abbiamo inoltre una pratica lavanderia ed infine il bagno con doccia saliamo ora al piano notte al primo piano la comoda stanza matrimoniale è collegata ad uno studio attualmente i due ambienti sono comunicanti ma facilmente separabili per creare due stanze distinte questa flessibilità rende la casa ideale per famiglie con diverse necessità di spazio il piano è completato da un secondo bagno con doccia pratico e funzionale la casa degli archi offre comfort spazio e flessibilità perfetta per chi desidera vivere in un ambiente accogliente e funzionale non perdete l'occasione di visitarla e di scoprire tutte le sue meraviglie grazie a tutti grazie a tutti benvenuti oggi siamo nel centro di alfonsine per visitare la binata degli archi grazie a tutti Grazie.